ciao a tutti ho appena finito di ottimizzare per un cliente questa splendida l'arrivé lv 909 strumento veramente fantastico dal punto di vista di diuteria suono amplificazione è veramente una chitarra con i fiocchi direi da olimpo degli strumenti a corda se proprio vogliamo trovarci un difetto l'unico neo è che probabilmente non è alla portata di tutte le tasche noi ci vediamo alla prossima ciao